Oriana Puzzuolo, segretaria regionale della CIS di Pagurur di un anno. Oriana Puzzuolo, segretaria regionale della CIS di Pagurur, segretaria regionale della CIS di Pagurur, segretaria regionale della CIS di Pagurur. Oriana Puzzuolo, segretaria regionale della CIS di Pagurur, segretaria regionale della CIS di Pagurur. Oriana Puzzuolo, segretaria regionale della CIS di Pagurur, segretaria regionale della CIS di Pagurur. Oriana Puzzuolo, segretaria regionale della CIS di Pagurur, segretaria regionale della CIS di Pagurur. Oriana Puzzuolo, segretaria regionale della CIS di Pagurur, segretaria regionale della CIS di Pagurur. Oriana Puzzuolo, segretaria regionale della CIS di Pagurur. Oriana Puzzuolo, segretaria regionale della CIS di Pagurur, segretaria regionale della CIS di Pagurur. Oriana Puzzuolo, segretaria regionale della CIS di Pagurur. Buonanni, è stata una buona ora? Ma dovevo pensare a me, a me mi preggei, poi magari non ero una domanda Maria Furlana, devo votare a città passata, se io già parlavo contento, mi era già indicato come il successore di Raffaele Buonanni, questa cosa è arrivata a voi che deve anticipare, però come succede in ogni famiglia, quando uno è sora di ritirare e l'altro è pronto. Devo votare, devo votare a Beivoro, avviene 200 voti, sono da piegare 194 e sono tutto contento, che Anna Maria è il suo segretario generale. La CISL è donendo un esempio, e dicevo su contento, questa è una femmina che ha fatto grandi attività nel suo sindacato, ovviamente le femmine sono del suo sindacato, non hanno regalato nulla, non hanno abitato, venire da Saliguria e Genovese, e chi non mi ha regalato male, potrà sanguigno, sardro, purvo, vatti da mamma. Su papo umano, questa cultura sarda, Giovanni Villi, una ragione sempre, tocca a donare i suoi poteri e le femmine, se cagando in Sardegna, anche come andavo le femmine, è il bifo sempre in pace. E adesso è contento con questa cosa, una femmina ha la ghia dei suoi sindacati regionali, due femmine ha la ghia dei sindacati nazionali, Susanna Camusso e Anna Maria Forlana. L'unica cosa che manca da essere una femmina a questa ghia di questa regione di Sardegna? Giovanni Villi è una cosa bella, importante, se qualcuno si ascoltava di Bruso, può dire che questa femmina a questa regione di Sardegna può dire che è una cosa bella, ma questa strada è stuperta, e ho pensato che sul cammino dei femmine in questa società, in questa cultura, in questa politica, in questo sindacato, anche in carriera a tracciare dei passi su, e ho pensato che in Sardegna anche quando questa politica si dovrà riposizionare, equilibrare, e ora se ho detto in confusione dei partiti, delle appartenenze, delle appartenenze a queste femmine, come è il nostro professore, stimano, poi in testi, su chi non ha avuto un valore aggiunto, e cambiamo via la prigia, e vengono a questa regione. Oriana, tu sei ribadata a questa chiede del sindacato, in un tempo sulle leggi, che può essere un rabbaglio, non fu un esempio bello, le disoccupazioni crescili, in Sardegna massimamente, del giovane, che è nel traballo, il continuo di un tono, che ti torneranno a muovere, voi migrai, e in poi, la rappresentanza loro del sindacato, è esposta in discussione. Ho visto, da venerdì passata, se è questo certo, tra il suo primo ministro, Renzi, e il sindacato, questa questione, della riforma, del suo traballo, ha posto il sindacato, in uno corroncone. tu hai detto che questa questione, e tu hai detto che questa questione, e tu hai detto che il sindacato? Tanti minuto, se io di accordo con tu, questo è un momento, ma era difficile, questo sindacato, questa bento, delle riforme a tutto il campo, che aveva un mera in questa politica cosa che non fu in tabella, le leggi, prima di dare i croppi al suo sindaco. Ma devo dire che noi, per la questione vostra CISL, ho sempre dimostrato delle cose che ho fatto bene, trasparente, ho sempre fatto il suo interesse dei nostri iscritti, è una delle cose che ho pensato di noi e siamo aperti al suo confronto, a chi ci ha, a chi ci ha, a chi ci ha, a chi ci ha, a chi ci ha. Certo, questo governo è fatto vedere da modo suo, insomma, le rarrenze da suo vivendo, ma noi non si arrendiamo, ecco, questo mi piace di radunare, però vanta a si vuoi in due angoletti, ma non so, pensavo di nuovo a raggiungere, sì, e il primo segnale si dice che un istituto, si tocca radunare, e, s'attraddì mi parli, dice, è stato il primo incontro tra il sindaco e il suo primo ministro Renzi, dopo sette mesi del governo è stato una cosa importante, questa cosa si chiede a noi, e si tornava a BQI su, su binti sette, sa, c'è CISL, si vuoi di, in questa condizione di chiestione con il suo governo, balli rivo su governo nazionale, balli rivo su governo regionale, non so, dove ho portato a domani l'interesse che rappresentavo, su voi lavoratori e per i pensionati. Non mi parli di chi ha riuscito a sfuggire che voi, su sindaco, non è un soggetto dei voi in due angoli, forzisi, e arrivare a sopra, deve pensare che questo sindaco non è un soggetto. Legendo i giornali nazionali, intendendo che non è il suo errore, il suo primo ministro in televisione, parli di che avevo questo governo, il sindaco, si è andato un istruvo, non vuoi essere il suo vero, in due mesi, la rappresentanza dei sindaco, di ponere in rischio la democrazia? Eh, certo, la democrazia è in discussione, non c'è quando si vuole in discussione su sindaco, ma quando si vuole in discussione, l'altra associazione, l'altra rappresentanza, di spartire, è un rischio questa democrazia, ma io mi penso, insomma, che quando si vuole in discussione, non ci vuole in discussione, non ci vuole in discussione, ma io pensavo che ho una idea bella, ma è una idea bella che non è facile provare di questo, ed è per ascoltare, certo, poi questa politica è, insomma, una macchina, come ho detto, difficile, ma sul sindaco non torna la cosa, non ho, portavo su una bella rappresentanza, questa Cisla a livello nazionale, conto era già i 4 milioni di iscritti su, tra chi traballa ancora attivamente e tra gli spensionati su, non sei su su sindaco di spensionati su, voi intendi, e, beh, insomma, gli estasi misurai poi i numeri su, quando sei pronto su, non ho, per portare la gente in questa piazza, eh, balli a Roma come ti balli da Castello. Ernavo, il tempo su punti legge su questo traballo, degli anni su 90, eh, se scomenzavo a questionare di questa maniera che vorrei salienti a assumere il suo traballo, può fare i cresci e le soccupazioni e poi fare i stoppi e le soccupazioni. per questo, ha raggiunto in i anni 90 su un progetto di somministro trego, no? Tanto loro fu di, eh, poi da noi, come ti, da un altro giurista, sa, uno, eh, sa flessibilità di subito del traballo fu di sandala dei buccati. Quest'andala, però, ha mostrato da plus flessibilità di non dona da un risporto su tutto il traballo, anzi, da tanto, a oggi sa disoccupazione sta aumentata e il gioco su un cinque traballo fu di sempre. E' tanto. E' tanto. E' tanto. Questa proposta del suo job act, come ti, da anche la MAU, andata e incursandale tutto. Noi sono interessati, come ti, sindaco, a questa riforma del traballo. Tanti buoni che sul traballo è una cosa molto importante. Dio, che stiamo a un, che stiamo a un, che stiamo a un'altra tua situazione, da questa, nostra terra, tocca la stessa pranzi. Il traballo mica nella azienda si è da, abbiamo usato i lavoratori non sono in casa integrazione, abbiamo usato i giovani, ci sono in cibo, insomma, abbiamo bisogno di andare al traballo. del traballo sul traballo dov'è in questa azienda con questa serie e quando però non ho questo concetto ragionando su forme del traballo che viene nei anni passati in città o a tre e ho dato ricordo a Biaggi di Puro e sono arrivato poi alla Fornero e poi con Renzi con questo Jobat si acciclò mesi anno passato doveva riforma sul traballo e ci chiede regionale sulle flessibilità che essi concepire una formula poi acciclò di donare il traballo e di donare un contratto il traballo su questa azienda e questa fabbrica e ci chiede quindi di donare il flessibilità ad otto i giovani che accettano il traballo sui punti diversi sui punti diversi sui punti di nasce quindi e innovazione chi noia hai un contratto sui punti diversi luci che si non ha una questa riforma dei Biaggi da la riforma degli statuti dei lavoratori. Questa riforma è arrivata a metà, non si è fatto scelta o a flessibilizzare, io potrei lavorare a formare la contratuale che non fanno queste tradizioni, però in tenda io aggiungo i giovani che sono venuti sul mercato del lavoro. Io ho tentato partite I, Coco Pro, progetti a tempo, Bill Part-time, ne ho fatto un mera di questi contratti, però se ho avuto conto che mancava questa flessibilità, se si incarrerà con questa flessibilità si terminava con questa flessibilità del suo lavoro. Questa seconda volta non ci si è arrivato. Renzi oggi è arrivata con il suo job act, è una cosa importante di superare il suo precario, se ci si è fatto una campagna in questi mesi di lotta contro il precario, di indesideri questa situazione, e ci crediamo che ora questo precario non siamo più precari, siamo lavoratori a tempo indeterminato. Ora, questa proposta non so dove ho visto, naturalmente che si incontrava, è stata la desigara a sviluppare il suo confronto con il suo ministro. Che non era già, che non aveva prusso dei Coco Pro, e questo andava pure, però la preoccupazione è che non aveva prusso dei Coco Pro, eliminato questa parola e straballato pure, spero che non in Sardegna, non aveva prusso dei 25 mila giovani al contratto con il Coco Pro. Non aveva prusso, non aveva prusso, non aveva prusso, perché questa situazione non aveva prusso, ma è che il suo traballo flessibile si deve trasformare in traballo stabile. Questa è questa cosa che non aveva domandato, ma in forma di migliorare il suo contratto non è tutta la presidenziale soprattutto. Renzi ha un'altra cosa che... Non è la mia cosa che si fa a Renzi. Poi il sindacato, è che il sindacato, in questi anni, non pensavo per usare sull'organizzazione che non aveva lavorato. C'è questa, secondo te, una responsabilità del sindacato in questo decoglio dei sindacati di oggi? Noi sono sul sindacato dei lavoratori e pensionali. Sono inscritti con noi. Quando uno si iscrive sul sindacato, dove si rappresenta e quando lo rappresenta, dove si tutela. La cosa che si va a te è di essere sempre assicurato a chi è che sta a te bene. Ma non è qui. Anzi, non siete qui. In Sardegna, a causa delle manifestazioni, io giuro che mi hai perduto il traballo. Faremo delle cose per cercare dove si nasce, i giovani. Ma vengono a Sardegna e vengono al resto dell'Italia, perché non è che questa crisi si era scelta in noi. Purtroppo è in tutte queste nazioni. Purtroppo non c'era una possibilità elettorale, pensando di essere diretti con i giovani. Ecco, non c'era una difficoltà del sindacato ma non c'era una difficoltà del giovane. Non c'era una difficoltà del giovane. Non c'era una difficoltà del giovane. E questo è una cosa che io mi penso, quando ero a fare in Sardegna, dove si vota accanto alla nostra, a disegnare i boggi, a non disegnare però il segretario generale, che mi vuole un giovane, a rivendicare tutti i suoi diritti su e il traballo. Lascio insomma una parte di Renzi, ha scelto la nostra Sardegna e bene uso, ha scelto la nostra. Questa è una notizia, ma ci sono le dati, quindi ci sono le statistiche, ci sono le cose che il traballo è sempre più spago, ci sono le industrie, ci sono le cose che si rendono, ci sono le cose che sono crescite, ci sono i lavoratori che si permettono il suo costo, ci sono le cose che si mandano giù, con questa integrazione, con questa mobilità, ci sono le cose che sono le 20 mila. Già 30 mila. Quasi 30 mila, appunto i greci sui incostruzioni, ci sono i suoi promessi. Sì. E il vostro comente sindaco, comente componenti, di questa carta di Zurich, lo si rendendo da Diora, è crescendo fino a questa poperezza, in Sardegna, è sempre il debruzzo, il soggetto che non tenete, di Subani, di ogni giorno. E ora è scambiato sul governo, lo è avuto il progetto ornoso. Tu, come te segretario, quest'anno di esperienza, bisi, salugi, atteso o ancora depeso su un frigo, prima di salire, assumere il suo lavoro? Dio, se ho pure un credente, da dei pubbisti all'uso, da dei pubbisti, un po' di un altro puro, che è uguale, non so, andando a bere. Certo, questa situazione non è meglio, anzi, mi pare che a volte ci sono certi dici, e poi, quando arrivo, appunto, intendo, dobbiamo dire, chi serve una azienda, e 250 di questa azienda, e 30 di un'altra, e poi, andando a accassare i numeri, e se usano in cui, aumentano i poveri, e quando aumentano i poveri, aumentano i poveri, aumentano la famiglia, e quando in una famiglia, c'è la famiglia, non c'è chi perde il suo lavoro, non ha risentito i familiari puri, e io penso, a SPP, io penso, ai giovani, e a volte sono andati a mancare scuola. però, io penso, e andavo incontro a San Luce. Questo governo regionale, che si è proposto dai governari, può avere un'idea, però, questa cosa che noi, se non rendo a questo governo, c'è l'incuncio di c'è in questa regione, non potrà ancora andare in questo garage, io penso, e tu spendi. a Rizzonte presentavo, sul programma regionale di sviluppo, faremo qualche conto, si scopre che ci sono, 32 miliardi, e, poi, poi, cinque anni, da vendere. Già i cinque miliardi su, a due anni. Ma, non scelte, puntare ne esce su, si svincolai, potrai a te risorse, su credito del suo Stato. chiedere ne esce su risorse, non su di una, su Presidente Pigliaro, non è cosa a pensare in mera, c'è il suo pensamento, il suo ragionamento, però, dovrai fare le cose immediatamente. idee sono diventate, ti incarrerò a noi, ad esempio, per questa scuola, poi a posto, le scuole da Sardegna, ed è uscito, che le scuole da Sardegna ancora non hanno posto a questo, ma, con tutto il suo dinario, io ho posto, già i 30 milioni, e ho donato il lavoro ai muratori, scuole da Sardegna, non mi ha risultato ancora, le imprese, potrai apprendere la cassa integrazione, non le indizievole, le scuole da Sardegna, le scuole da Sardegna, le scuole da Sardegna, che non è una strada che è malvosta, le aziende, sono molto andate, le scuole da Sardegna, che vengono sbloccare, dove vedi i scuole da Sardegna, ma voi, con questa industria, che io spero in questo tempo, non pensavo ai progetti, di una nuova era, dicevo, queste industrie sono importanti, in questa regione, ma vorrei essere un'industria diversa, da quello che ho conosciuto, non so che ne ho ricchezza, meravigliosa in questa regione, penso a questa cultura, che sta succedendo con Monti Brahma, ma penso a tutto il manifatturiero, l'agricoltura, se ne ho ricchezza, poi voi impresezza, e fai la ballo in questa regione, ma questa regione è lenta. Se avete finito, un modello di sviluppo nuovo, una cosa che mi parla di D'importo, è il sud dell'Olleri, che non è troppo, ha una questione della zona interna, del suo spopolamento, il riservo, si è aggiunta a Nauda, da ponere 100 milioni di euro, poi la zona interna, pare di un montonino, non è Mera, non è Mera. Però, in cui, avete una ricchezza di questi ambienti, di questa produzione, di questo turismo, che ancora non siete sfrutturata, e tanto, un po' anni e anni e anni, sul giunto di Santinavolo, la questione della zona interna, sul spopolamento della zona, se la gente si chiama emigrare, e il B, che stanno sfrutturando. Tanto, in cui, avete un'occasione di sviluppo nuovo, e un'occasione di ottenere un modello di Sardegna differente? Beh, se noi, abbiamo fatto questo dibattito, mi sono bello, e mi sono contento. Come ho deciso, noi ho proposto, che c'erano i assessori, la programmazione, che si chiama PACI, ed è una cosa, che tocca reinvertire le direzioni, che il sviluppo in questa regione, deve ripartire l'interno della Sardegna. Le zone interne, non fu una cosa davanti, poi, tipo io, che ci sono, hanno inventato i PIA, programmi integrati d'aria, i GAL, strumenti di inserimento lavorativo nelle zone interne. Non teniamo su, ho il ragionamento che hanno votato un traballo, anzi, non scelto che non hanno votato, se non ti sbira su, i B, hanno scoperto, che hanno rischio di perdere, altro comune su, e noi, il ragionamento è, ha invertito la rotta, ha scomunato, ha di una importanza, mera, ho avuto i identitari delle nostre scomunità, e delle nostre regioni, io ci credo mera, sul comune, di Sardegna, anzi, mi ha disperato il scrovetto, quando ho scoperto 50 resi, del comune di Sardegna, che ho tanta storia, e, inverti questa direzione, e noi fai investimenti su, in questa zona, poi ci c'è, da noi, il ragionamento, il giovane, su, e mi sbida, con me, hanno attivato un'altra vattisi, non è che si deve inventare una cosa, ma hanno attivato in Liguria, appunto, e ci c'è, una cosa semplice però, se ne uscite, dove puoi spendire, se non sa perdere il partenario, le cose, non puoi correre, gente brava, chi è preparato, chi ci racconda, chi deve, in due parole, la gestione, e cioè, se ne uscite, vuoi spendere, un gruppo di persone, tra i comuni e le regioni, questa provincia non c'è tanto a fare, però chi c'è di noi deve accorre il progetto, quindi votavo su me dei fondi della comunità europea che rischiava di perdere. E io mi venzo, il distretto del Sud, mi venzo questa cultura, gli itinerari turistici, le capacità di donare all'agricoltura che non c'è un'altra leva. L'uscita che non si va a pausa, non si produceva su 20-200 di vitrura e su 30-200 ci dov'è andare a diventare. Ma di varietà che ha dei prodotti che ha fatto. Queste cose, sicuramente da scinti, non puoi ancora in testa delle esigenze di questione, di questione, di questione, di questione. Tocca a fare questa gestione e a tradurli. Devo appare a risolvere dopo. Con questo programma di sviluppo di 200 e passavagina, che si è contenta che questo vuoto, fino a voi, trasformandolo in fatti concreti. In scuola San Campo, tu hai il cerimoniale sul programma di sviluppo che è stato presentato con Stardisi, 32 miliardi di euro per 5 anni, 6 miliardi a San Campo, ma ho fatto un progetto in campo, come il piano di sviluppo rurale, il primo mese del 2015, la comunità europea ha approvato. e tu hai finito un programma di importi umano con i giovani, su questa garanzia a giovani, che ha di pensare che si è aggiunto. Dunque, la cosa ha assunto in me, è questa l'ultima domanda che mi fa. le idee si hanno dato tutto su questo intervista, in campo due punti. Tutto il sindacato, il sindacato è pronto a donare, si è aggiunto fino a che si è aggiunta, con idee, con proposte, e su chi manca questo argomento di pratica. Ecco, questa è l'ultima domanda. L'ultima domanda. E tu pensi che con questa proposta, con questa disponibilità di dedotto su questa Sardegna, un po' di Castià e un spettuo uno sui problemi d'orio? Castià, è cosa che continui a rendere, che puoi andare a giovani, sul programma di sviluppo rurale, che è questa cosa meravigliosa, da pubblico, ci si cantè, su tanti volte, su il prossimo 2015, e già un miliardo e ottocento milioni si dedinai, io mi penso che l'agricoltura è veramente importante. Mancai donare ai giovani puri, dove hai veramente dei divideri importanti. Beh, da questo annuncio, dopo che la passai, è una cosa concreta. Qual è il suo problema? e sull'ultima domanda mi dassi proprio il nostro, io ho domandato già a questa regione, a questa regione che uscì, quindi deve restare un paio mavi da questa nostra regione, che esistere la burocrazia. Da questa burocrazia non devo riuscire, è una burocrazia che è politica però da conoscere, che è gestire questo interesse diverso, non deve restare non deve restare il uso e non deve restare il uso e non deve restare ciò che si indichessano oggi e creare gli investimenti. Invece, ancora oggi, per decidere di donare i gantieri e se l'azienda fa questa domanda questa domanda questa dotazione e si fa di questo ufficio a questo ufficio basta. Questo depit è il posto vedi, il funzionario della pubblica amministrazione regionali ma i ministeriali pure depiti le regioni concretamente il lesi vunti vado a essere applicati, ma dopo l'applicare bene e subito, noi non possiamo perdere il tempo, quando questa burocrazia devo donare una bella segala, sa vorremmo noi che ha garanzia giovani, che è andando bene, ma secondo me è ancora lento sul cammino, e vunti aspettando, vunti già i 30 mila vicocchi, che hanno fatto questa domanda, vunti in questo progetto è importante, e mi vengo anche nello sviluppo rurale, quindi questa burocrazia ho tirato e accelera, e con questo è un posto, si serve per questa puntata, grazie a Oriana, e di vero un buon lavoro, a Rosseghini, sul trabaglio, bene come se si è. Mi voto sempre a bisogno, già ringrazio Deo.